Ancora una volta torna la mezza maratona, un grande spettacolo per la città di Montesilvano. È un evento che a noi dà la possibilità di ospitare tanti atleti e quindi da Sessorello Sport non posso che applaudire a questa iniziativa, ma anche dare la possibilità a tutti gli atleti che vengono sul territorio, alcuni dei quali anche di fuori regione, di conoscere la nostra bella città. Noi ci siamo adoperati unitamente agli organizzatori al fine di rendere questa manifestazione anche sicura e anche la meno pesante da un punto di vista di circolazione viaria per la città. Si porterà sempre dal Porto Allegro, andremo praticamente a raggiungere il borgo di Cappelle, da Cappelle andremo a Montesilvano Colle e poi si scenderà per via Togliatti. Una bella discesa alberata che ci riporterà al punto d'arrivo. Milva Monticelli ci illustra brevemente anche il programma, non solo della gara di Montesilvano, ma della due giorni che prevede una serie di eventi collaterali. Avremo praticamente una conferenza sabato alle ore 10, abbiamo una conferenza che parlerà dell'alimentazione, importante per noi podisti e anche per tutto quello che riguarda lo sport in genere perché generalmente non si sa mai come alimentarsi prima di una maratona, come fare e quant'altro. A seguire ci saranno tante esibizioni di scuole, di danza, di karate e quant'altro che praticamente riempiranno queste due giornate di sport. Grazie. Grazie.